Grazie 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 Ordine ad arrivo della sesta corsa Primo è il numero 6, Timas Secondo è il numero 5, Zurito Serrelle Terzo è il numero 10, Avagarner Trebb Quarto è il numero 2, Unicom Quinto è il numero 1, Ungaretti Os Tempo del vincitore al chilometro 1,16,8 Si ricorda che la prossima giornata di corse avrà luogo mercoledì 28 settembre con inizio alle ore 15 Sarà disputata la Super Tris, quartè e quintè Grazie a tutti Grazie a tutti